Io credo che ognuno debba avere la possibilità di avere accesso alla lingua e alla storia, alla letteratura. Allora, il mio Afghanistan che è stato tradotto e mi è stato proposto nel 2021 di tradurre in simboli CA è un libro che permetta anche di conoscere la mia storia ma in generale anche la letteratura delle immigrazioni a coloro che prima magari non avevano accesso a questa letteratura. Io credo che ognuno debba avere la possibilità di avere accesso alla lingua e alla storia, alla letteratura. Quindi questo libro è bello che possano leggere oggi anche coloro che prima non avevano accesso a questa. E lega sempre con la mia storia che io all'inizio ero arrivato analfabeta e comunicavo con i gesti e oggi invece il mio libro che oggi sono riuscito a comunicare e scrivere direttamente in lettere eccetera poi è stato tradotto in simboli come se mi dasse una possibilità anche agli immigrati molte volte che aiuta questi simboli a comprendere perché arriva molto immediata, molto veloce rispetto alla regola della grammatica che in generale viene insegnato.